no ciao a tutti ragazzi sono shoutout eccoci qua con un'altra parte di minecraft 241.1 forever together e con me c'è stato 96 oop merda ron for your life yeeey yolo give me chicken perchè vuoi scutalu sta laggando a bestia che sta succedendo dove siamo finiti aspetta mi sta ancora laggando vabbè eh si ma io c'ho si ma io c'ho quattro cuori e mezzo ecco 2 aspetta e come facciamo a sopravvivere ma non lo so io amo aia aia io non ho nemmeno enderpearl quando rispondi te le dà no non ce l'ho come no adesso nemmeno io ce l'ho ok io volevo dare non è un vero che vuoi citare ha capito vero hai ragione no andiamoci le enderpearl no io ero arrivato qua neanche ero qui vai te li do anche a te sei buona ok prendiamo di fa però rimetti la game mode ah già se la non funzionano le enderpearl ah ecco ora me la ridate si è che a volte ti lagga quindi non te le ridà a me sta laggando un casino adesso ok ho messo di laggare ho finito il livello penso ah no c'è ancora c'è ancora ora ora aspetta ma dove dobbiamo andare da sopra ok mamma mia come da lagga sta mappa oh non smacce più di laggare ok 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 aspetta aspetta il sonno alla fine è aperto la cake room ok aspetta 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 e se lagghi te figura di quanto laggo io ora ma da ciolo oh cake room oh oh oi amaggini aspetta fai gli ricaricare i cuori a sto troiaio kudaloo ok aspetta il lagg io mi allontano perchè sono praticamente morto sono morto non trovare fare cazzate provare o da solo la mia non si brucia ok ora si vuole di più a far bruciare le test chamber che a che a completare i test ma sai cosa yolo ok livello 37 cosa acqua o no ok it's leaking on my electricity cable guarda stiamo zitti va sta gollocciando non gocciolando sta gocciolando no ma perché più che altro io ho esperienze personali cos'è ok ehi che devo fare qui cosa vedi allora io ho capito cosa vedi allora dobbiamo con io vedo dei blocchi d'oro better don't throw water on here aspetta se c'hai qualche strumento ho quattro blocchi d'oro con dei bottoni aspetta aspetta ripremi è successo qualcosa si hai spostato l'acqua da una parte ok vai fai il resto con gli altri blocchi d'oro aspetta rifallo no mi sa che dobbiamo premerli tutti e due insieme no no perché te praticamente mi alzi il blocco dalla mia parte rialza un attimo il blocco che avevi alzato prima quale questo ecco questo rifallo ok aspetta eh guarda che fa questo mi sposta un altro blocco rifallo ok e ora penso qui questo aspetta qual è ok continuo a farlo questo aspetta non capisco quale sia aspetta se io ti premo questo aspetta se io ti premo questo don't ask me why this cos'hai premuto? ah no aspetta allora fa una cosa torna indietro nel punto dove hai mosso l'ultima neva la penultima non quella che hai mosso ora ma che hai mosso prima ok vai alzalo rialzalo ok no quella prima ok quella dopo di questa la primissima? no quella dopo di questa ok aspetta questa la devo rialzare vai prova ok ok quella dopo vai no è più verso ecco questa qua ok ok e ora ripremi l'ultima l'ultima cosa che hai ecco quello ok andiamo andiamo 8 minuti dai c'è ancora tempo oddio ok 28 cosa dicevi? come hai fatto ad arrivare qui? ah non lo so io dal gocciolai dell'elettricità beh ti posso promettere che non succederà più sai cos'è una color path? hai ancora i colori che ti ho dato? no? beh allora puoi fermarti a giocare dai andiamo a fabbricare arcobaleni rainbow factory vai non l'hai vista rainbow factory? no poi te la faccio vedere no 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 caro no caro è una stile cupcakes però con rainbow dust anche cupcakes e con rainbow adesso guarda luci cosa faranno? aspetta eh aspetta te c'è qualcosa da fare sopra? a parte stare qui sopra no non lo so qualcosa che te vedi io no? per esempio ecco fermo hanno spento le luci vai sulla prima pressure plate? aspetta allora te devi andare ah non devo accendere la luce? esatto te devi andare sul giallo sul rosso sull'arancione e sul nero no se vado sul giallo si accende però prova vedi se vado sul marrone non si accende no no sono acceso invece ah il giallo prova il giallo vedi che non si accendono poi il rosso ok si accende si accende aspetta si è acceso al rosso allora quale? ma scusa te hai una leggenda qualcosa no sto pensando ai colori quelli lì del quello lì che ti facevo gira i colori io primo ah aspetta ok c'era c'era un cartello dietro c'è scritto i colori ok ok allora spengi le luci giallo spengi le luci ora giallo poi turchese colore dove sono io quello poi cos'è quello andrei per qui questo viola questo? si e ultimo ma non meno importante il il? il nero questo ah ok adesso? no adesso devo premere check e sarà il casino devo fare una roba del genere e pigiato il rosso ahhh reset allora viola lime viola nero salta da lì no eh ok hai pigiato l'ho fatto? no pigiato il rosso salta dalla piattaforma nera no? vai risettare vai moviti perché non mi vengono in mente queste idee geniali sei un cretino piallo lime eh sì è turchese viola eh non fino a sto punto cretino però e vabbè salta hai pigiato ma porco giù hai pigiato un vetro ho pigiato un vetro oh ok oddio ah non non ne potevo più di stare in quella stanza che sai non sopporti troppi colori eh no perché lì non c'erano colori diverso ok facciamo l'ultima e fermiamo eh la stanza di flutter c'è ok uno di voi ha la crostofobia ecco perché una stanza una bella stanza vabbè insomma ok andiamo non fare male a madre natura ok se no la giglia arriva a casa oh oh la gattuna ok aaa 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 forza il trova la strada neanche io torta mamma mamma oh ma piano di torta sto posto eh Beh Che c'è di male? Aspetta, dov'è che bisogna andare? Ah, di qua Ok Stiamo avanti E adesso Ebbene sottofondo C'è un buco Ciao 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 Ok, bene Ripeto Un po' il mio stesso Se bisogna fare Qua Ah, tappa Chi c'è? No, che c'è C'è un buco È una bella c devo rifrasare ecco non so ci deve essere un percorso per sannere sulle nuvole e fluttertri potesse parlare il problema è che nessuno di questi è rosa anzi no nessuno di questi è giallo con la fiamma rosa o qua hai visto che c'è qualche lavano ascolto passi l'uscita di sopra vuol dire che bisogna saltare prima di là non è che sotto le torte c'è qualcosa ens guarda un po' se qui intorno ci sono delle ragazze xX xxx che quello che percorso non è che troppo Quella roba gialla cos'è? Sole Ah, bella fantasia Vedi? Avvicinati Qua non c'è niente Ma se tipo bruciassi tutto? O no? Se no non abbiamo una strada per andare su Vabbè che ne sai Magari dobbiamo veramente bruciare tutto Spiegami come facciamo andare su In modo lo troverei In modo lo troverei In modo lo troverei Mi piace come penso Eccolo No, l'ho dato fuoco all'erba Aspetta che ora si espande Non si può espandere il fuoco Sai come non siamo in area live, siamo su mantra Dai Spande il fuoco, vedi? Do fuoco tutto No Allora, dai, dimmi come si fa salire Pazienza e virtù Non dare fo a nulla Almeno non ancora, poi ci puoi dare fo a tutte quelle boi Quale non è niente Quale neanche Qua c'è tipo una scala però, come facciamo salire Peresce una leva a una scosta Che è l'insurna No No, scopo a niente, aspetta però non ho risolto è spaccato una glowstone una glowstone? aspetta un attimo no niente vuoi che ti dia il consenso di bruciare tutto? se non me lo dai ti faccio lo stesso buono però evita di bruciare lo scenario ok aspettiamo che il palo faccia però dai un po' più fuo alla roba e c'è una glowstone aspetta ma se facciamo la pro wave cioè vuol dire bruciare solo sta parte e poi saliamo tre macerie no ok scherzato ah posso spaccarla l'erba eh senza nemmeno bisogno di muovere le mani sono un preo non hai detto preo vabbè stupendo non è che se dentro al sole c'è l'acqua lo so che sono strano però no c'è della glowstone ahia però non dà fome ahino ok vediamo se riusciamo a risolvere qualcosa così non fa male a madre natura le ultime parole famose si fa oh è passato satana eccola eccola guarda eh aspetta saresti da picchino nervoso guarda se non torna giù aspetta arrivo guarda guarda eh non ci vado da nessuna parte salto sulla glowstone e poi diceva qui no no ah si parkour sulla glowstone ah allora faccio prima io ascolta parkour mi son veramente rotto coglioni bene ok 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 stoppiamoci ricorda il fuoco ha sempre ragione eh guarda guarda l'hai offeso offesa sono secca l'hai offeso dai fuoco a me io non c'entro nulla bene ora non puoi più darmi fuoco comunque vai salutiamo che stavolta è durata tanto è la parte ok vai saluta vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto insieme a tutta la teoria in generale e vabbè noi ci vediamo a un prossimo video di minecraft o un altro video in generale vai avanti vai siglia ciao a tutti ciao a tutti